ciao amici per dimagrire siamo tutti abituati a pensare che bisogna bisogna mettersi a dieta uffa infatti sapete che io sono contraria alle diete ma se si vuole dimagrire bisogna migliorare la propria alimentazione e mantenerla sana ma non è l'unica soluzione diciamo che ci sono degli aiutini davvero efficaci che ci facilitano il compito di non sgarrare e perdere i chili di troppo oggi vediamo 5 trucchetti insoliti per resistere alle inevitabili tentazioni se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 eventi social quando siamo al bar all'aperitivo in generale davanti a un buffet la tentazione è quella di fare avanti e indietro dal tavolo riempirsi il piatto se non vogliamo esagerare e rimpiangere tutta la serata basta stare fermi lontano dal tavolo e respirare lentamente la tentazione passa in fretta 2 voglia di cioccolato chi non desidera il cioccolato di tanto in tanto se vogliamo concederci lo sfizio deve essere fondente almeno a 70 per cento massimo uno o due quadrotti in un giorno come spiego in questo video per resistere del tutto alla tentazione basta trovare qualcuno da abbracciare fatto 3 biscotti tentatori contro la voglia di biscotti gli psicologi di alimentazione consigliano il telecomando squaletto lo deve mangiare no basta fare un po di zapping e se non avete la tv fate un giro su netflix ma senza snack a fianco 4 voglia di abbuffate contro il desiderio smodato di cibo si può fare qualcosa di strano e stimolante come mangiare una fetta di limone o cantare e ballare gridando forte funziona 5 bibite dolci se l'oggetto della voglia sono le bibite dolci piene di zucchero la soluzione è dedicarsi a un'attività fisica impegnativa che richiede la nostra totale concentrazione come fare la verticale per i più atletici oppure tenere una posizione yoga difficile o fare un esercizio di coordinazione come fare canestro nel cestino se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale è facile basta un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto qual è la tentazione più ricorrente per voi fatemelo sapere nei commenti questi consigli anche se bizzarri sono stati selezionati da un'equipe di psicologi dell'alimentazione e funzionano davvero vivi consapevole e vivi meglio